Buongiorno, buongiorno Anzi Joher from Playful Life Pronti per questa sessione di chair yoga stamattina Allora, so we're ready for this chair yoga today And the theme of today is getting rid of tiredness Il tema oggi è togliere la stanchezza In inverno andiamo un po' in letargo tutti quanti E va bene così, però ci sono cose che possiamo fare per svegliarci un po' di più So in winter we tend to go a little bit in hibernation And especially in this period, you know, where Lots of our external stimulus have been reduced a little bit We can be a little bit hazy In particular in questo momento dove Tanti dei nostri stimoli esterni sono molto ridotti Diciamo fuori, no? Magari in modo digitale sono di più Però è un'altra cosa quello E può portarci a essere un po', come dire, nebulati in testa Quindi ci vogliamo svegliare bene in tutti i sensi E cercare di rimuovere l'energia e il sangue So we're gonna try and wake up a little bit Move our body, move our energy, move our breath And to try and get back to this clear mind Where we feel very awake Quindi torniamo a questa mente molto sveglia dove ci sentiamo Mente molto chiara dove ci sentiamo molto sveglio Bene, cominciamo Quindi come state? Vi sentite addormentate? How do you feel this morning? You feel a little bit tired? Sentiamoci un pochettino Ci sentiamo... Vabbè, ci sentiamo Come ci sentiamo è così Ok, so however we feel this morning It's like this So we're working on a more physical level today Where we feel, whether we're tired or we're awake Quindi lavoriamo su un livello un po' più fisico oggi Quindi come ci sentiamo? Ci sentiamo? Ci sentiamo dormentati? Ci sentiamo svegli? Sentite com'è adesso E poi vediamo come prosegui Quindi iniziamo con qualche respiro profondo We think first of all Inspirare e espirare Inspirare In In Out In Out In Out In In perfetto solo un braccio 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 mettiamo l'aria fuori un secondo rilassare sentire sensazioni e prendiamo l'aria di nuovo so we don't do very much quindi non so se c'è qualcuno qui oggi che non c'era la settimana scorso poi la vedrà nella registrazione però facciamo di nuovo questa mappatura questa è la terza parte che abbiamo fatto la volta scorsa e quella volta ancora la differenza è che oggi la facciamo senza le mani quindi metto prima le mani per far vedere e per sentire mettiamo le mani e poi le togliamo so we put our hands and then we take them off afterwards so we start off we want to breathe in these two areas so put our hands there a second and then we take our hands off and without our hands immaginare che le mani sono qui so we take our hands off and imagine our hands were there and we try and breathe in these two points if it's too difficult or you have done this before put your hands there se è troppo difficile non ne vedete già affatto mettete le mani uno qua e uno qua e respiriamo attiviamo un respiro profondo in quest'area stiamo anche respirando una sensazione di sì we're breathing also this feeling of yes in top body quando siamo un po' in un no chiudiamo un no tendo a chiudere no no sì invece sì apriamo quindi respiriamo con un sì poi le mani qui e poi togliamo le mani come so anzi let me take our hands off John breathe here so we need to go inside and feel where it's moving dove entrare di dentro e sentire proprio dove si sposta qui and feel where it's moving via and feel like È un po' più difficile che senza mani, però la rendiamo, attiviamo un'altra connessione neuronale, questo è lo scopo. So it's a little bit more difficult without the hands, but we're activating other nerve centers in our brain. So, now here, we can imagine a circle, immaginiamo un cilindro qui, quindi poi togliamo le mani. Possibilmente solo questa zona qui, magari convolviamo anche altre parti, però sarebbe meglio proprio solo questa parte qui per l'esercizio. So if we can, we're doing just this area here, just to isolate it. It's like a, it's a specific exercise for the brain as well. You get to feel how this feels, how does this feel inside, this feeling of the ribs moving. Come si sente questa sensazione delle coste, le sposte, le diaphragme si basse, and the diaphragm moves. Ok, now, hands on the back here, just here, mani quassù. Questo è difficile anche con le mani, però proviamo, togliamo le mani, spostare il respiro qua dietro. So this is hard even without, with the hands. So let's try to do it, putting where it is, feeling that behind and breathe air there. Feel it raising and lowering with the breath. Sentirlo sollevare dietro quando inspirare. Inspirare. Ese basta con espirare. Espirare. Queste mattine, poi così fredde, fresche. Molto bella l'aria. Senza esagerare, è buono respirare quest'aria fredda. Non troppo, ovvio. Ma un po' è, devo sentire che è frizzantino nell'aria. So especially when the air is, like, cold and dry, like it is here this morning, it's, it's a bit, a bit, um, bubbly, bubbly, the area. Ok, so now, carry on with our mapping. So we're hand here, we're hand up the top here. This is much more difficult, because we're not really very aware of our backside. But, um, so, go. Facciamo. L'inverno, se abbiamo un naso libero, è importante respirare col naso, perché lo rende il respiro più uniforme, lungo e lento, e, espirando continuiamo nello stesso tempo. E, quando espiriamo, riscaldiamo il naso già, poi quando inspira, inspiriamo, il naso già preso, cioè, prende già il calore che sta nel naso. Con la bocca solo non si riscalda molto, e fa, ah, 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 invece il naso. Ok, continuiamo qua. Ok, now, lower, so, spavimento pelvico, mano sotto, una mano, basso qua, so, one hand, like, you know, on a pelvic floor, one on a low abdomen. So, move the hands, really breathing deep, low, really trying to stay there with the attention. Proviamo di riman... mantenere l'attenzione in giù. Se tutti questi esercizi risultano difficili, praticati, praticiamo, praticate, praticate, perché i risultati saranno incredibili. So, if we find this difficult, then please practice them, you know, like, every day for a month or something. The benefits will be incredible. Praticiamoli tutti i giorni, magari per un mese, e cambieremo completamente come respiriamo, come è la nostra energia. Ok. Fermiamoci un secondo a sentire gli effetti, so we're going to stop this a second. Just observe how the breath is now, and how we start to feel already. So, let's just open our hands like this and just open our chest a little bit more like this. and activate a breathing in the whole of this area here. Activiamo un respiro in tutto il petto. Non troppo. Non sforziamo i lombari. Cioè, non... Cioè, così, solo aprire il petto su e respirare. Anche qui è un bel sì. Even here as well, like a really big, powerful yes. If you get tired, se ci stacchiamo mettiamo le mani dietro la testa così. Ok, cool. Benissimo. Excellent! Allora, so finiamo un po' di mani. Ecco, ci sono veramente un po' di gambia. And we're going to wake up our legs now. Very gently. Up and down. Ok, feel how this leg is already very different, much more awake now. Sentire come questa gamba qua, che abbiamo fatto, è già molto più sveglio. Questo aspetto di sentire gli effetti è molto importante nello yoga. Se facciamo soltanto, non attiviamo la mente sensoria, che è poco sviluppato. Dove vogliamo sviluppare la mente sensoria. Ok, l'altra gamba. So, it's really important, this part where we take time to feel the effects of these little practices because then we're activating our sensorial part of our brain, our sensorial mind, sensory mind. And otherwise we're just in doing mode all the time. And this is one of our problems of our stress is that we're in doing mode all the time. And not so much in being mode. So, in yoga we want to be. This is the idea. So feel how both the legs are now much more. So, I don't know if you wear shoes in your house. It would be better to wear slippers in your house. non so se portate le scarpe in casa, se è meglio portare le ciabatte così che respirano i piedi. Però, vabbè, togliete le scarpe, sedete le scarpe e schiaffaggiamo un po' il piante del piede. So we're going to quite vigorously slap our feet. ok, I have a very ah, such a long piedi, I'm going to give him a good rub. ok, cool, I feel like it's buzzing. Sentire come la gamba vibra proprio adesso così. L'altro piede. Yeah, well done. bravi. ok, C'è un po' di persone che non si toccano mai i piedi, la trovo molto strana, questa cosa. E' un po' di persone che non si toccano, ma non si toccano, ma non si toccano. Piano sulle articolazioni, so very delicate around the elbow and the wrist, and the hand is very soft, la mano è morbida, non è dura, non ci stiamo picchiando qua, ecco. Ah, the other side, la trovo. No, 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 no. Delica around the elbow, delicati attorno ai gormiti. Ok. Ah, now here. Facciamo una parte così e una parte unica. Un'altra parte. Un'altra parte. Un'altra parte. Delica. Un'altra parte. 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 Ok. ecco allungare tutto quanto questo so really legs in the whole of this area here up 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 don't go too far back with the head non guardare troppo dietro la testa usiamo più gli occhi per guardare su it's using eyes to look up ok mmm open the legs a bit wider we hardly ever do this one ok and then just going up up and down on the legs breathe in breathe out inspirare espirare ok excellent con il braccio solo dritto in aria respirare tutto questo fianco so the arms just straight up in the air try and lengthen this part here lengthen the spine and breathing in this whole side insieme all timidi il respiro let's not be shy with a breath really really have a good breath good good long expanding breath un peso di spiro lungo che espande se è troppo se vengono dei crampi mettete il braccio giù ok so it's too much if we get some cramps then just bring it arm down un po' se sentite che è scomodo so if you feel that anything is a bit uncomfortable perhaps your shoulder is a bit too tight bring your arm down a bit more yeah ok I'll test this one but I'm wondering if we get some crampi o la testa è scomodo che ci sta da di legio let's try and be comfortable while still feeling a nice big stretch here a nice big stretch here e e e Siamo ripolendo la vecchia energia con nuove energie, stiamo riportando nuove energie e quello ci fa sentire più svegli, più... Sì, this makes us feel much more awake, so, legs close a little bit more, and just a gentle twist, torsione dolce, concentratosi di più sull'espansione dell'espira, so just gonna concentrate a little bit more on being comfortable and expanding the breath. Quindi cerchiamo anche l'agio, la comodità. Grazie. 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 and your side, un altro lato e il momento giù, rilassare tutto il più che rilassiamo, il più rigeneriamo quindi più rilassiamo, più rilassiamo rilassare la testa, staccare proprio quindi rilassiamo, head down, shoulders down se è scomodo mettete le gambe un po' più avanti se vi sound comfortable, mettete i piedi un po' più avanti respirando in tutta la schiena, so really breathing in the whole of our back grazie 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 sentire gli effetti ci alziamo in piedi facciamo un movimento facciamo le rotazioni smooth and gentle facciamo felici, sciolti, gentili ok, ora molto dolcemente ci muoviamo la schiera inspiro e spiro facciamo cinque volte una gamba e poi l'altra cambio inspiro e spiro molto bene ecco così piegare le gambe so we're just gonna bend our legs a little bit rest arms on the chair and open our chest sentire che la schiera si allunga e aprire il petto respirare profondamente so breathing deeply excellent very very good ancora qualcosa ecco breathing breathe out inspira di su e spira di giù spira di giù spira di giù spira di giù momento di rimanere di su hold it a second great the other side facciamo un altro lato se è la stessa braccia della gamba che sta avanti it's the same arm as the leg it's forward breathe in breathe out inspira di su e spira di e tenendo su ok brilliant sentire le fette in piedi let's feel how we feel standing a moment letting all the tension drop down into the floor se vogliamo se ci sentiamo più sicuri teniamo una sedia if we feel more stable on our legs hold onto the chair we just really feel the skeleton rise and all the muscles drop down sentire lo scheletro che si solleva e tutti i muscoli che scendono le gambe pochissimo piegate le gambe leggermente piegate sentire questa presenza enorme so really feeling this huge presence from the side respirando che Grazie. Bene. Poi abbiamo seduti. Facciamo giusto una respirazione particolare di bramari. Let's do a bramari breathing, which is the bumblebee breathing. So we breathe in. And we breathe out. Imagining like a bumblebee coming out of up here. It's a bit like a king. Breathing. Breathing. Inspirati. Allora vediamo che questo suono va lontano, come l'apica va lontano. Svegli molto tutta questa zona qua. Ancora. 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 ma troppo una nota ahem chiudiamo un momento gli occhi sentire tutti gli effetti close the eyes, we're just feeling the benefits of the whole body, the whole body alive grazie so we're interested in this state where we're not like hyper and we're not like feeling lazy where we're in the middle somehow, in a sattvic state ci interessa di stare in questo stato che non è che siamo tutti frenetici né siamo tutti svogliati, stanchi, piccoli ma è questo stato in vidi mezzo sattvico so it's a yoga term, sattvico, sattva tamas rajas sattva and I hope we're a bit more in this sattva state right now spero, mi auguro che siamo più in questo stato un po' più sattvico come dire è un inizio, è un inizio per avere un po' più energia spero che vi sentite più cariche fatevi sentire, scrivete nei commenti come vi sentite, adesso vi sento fortissimo non lo so ok, so just write in the comments perhaps how you feel or write me a message or something and see you again next Monday I hope this has been good for you and spero che questa è stata buona per voi e che passate una giornata con un'altra energia e un'altra slancio nelle gambe so I hope you go take your day now with another more energy and more swing in your legs so see you soon hasta la vista, muchachos!